Roma è un mercato complicato. Ci sono moltissimi pazienti con cardiomiopatie che sono delle patologie che adesso stanno avendo risalto ma che per noi rappresentano patologie che conosciamo e studiamo da sempre dagli anni della nostra formazione. I pazienti su Roma sono pazienti difficili, complicati, spesso sono fuori sede, si spostano da un centro all'altro e avevamo due possibilità, quella di farci un po' la guerra l'una con l'altra, di rubarci la scena, di cercare di prevalere l'una sull'altra oppure quella di allearci per cercare di rinforzare ancora di più le cardiomiopatie su Roma e questa è stata la nostra scelta. Quindi il congresso nasce da una volontà di fare rete su Roma per migliorare la cura, l'assistenza, la diagnosi di tutti i pazienti con cardiomiopatie.